scusami se alle volte ero romantico con tutti gli ostacoli un pensiero a metà questo immagino questo immagino sia un modo di lello per chiedere scusa per la troppa foga che ha avuto nell'ultimo video io te l'ho detto la tua volta e te lo ripeto ancora però lo puoi dire vedi anche come se faccio in adesso con una volta più calma te lo dico con la calma qua qua il cubo di qua ho capito benissimo però capisci che il livore e la foga che ho usato l'ultima volta sono stati un po eccessivi quella rabbia che hai avuto no ma ce l'ho ancora ho capito ma tienila per te vedi questo sentiamo a cà non lo sai perché io sono il cubo di miei messi ho peccato non sono peccato di dall'altro un boss ho giocato la vita noi l'altra cosa che abbiamo capito sopra ogni ragionevole dubbio è che a lei lui è piaciuta moltissimo la trasferta napoletana questo è sicuro l'abbiamo capito tutti quanti i ragazzi e le ragazze e le ragazze gli vuole dare un mondo di baci sulle guanciotte esattamente però lui ti ha visto 6 6 non ci deve stare stavo se no me le becco io 6 6 6 atto alla pizzeria cosa si è mangiato che non ti ha lasciato io c'è praticamente io ho fatto dicendo mi ha perso all'improvviso vabbè non è conto problemi però le stesse come le fa lui me le becco io e facciamo un bicchiere a ciascuno e davano un bicchiere se no qua sembra che ci siamo dati alla pazza gioia lui acqua ha bevuto quindi non è così chiaro quindi che cosa non abbiamo capito il signore quando è venuto a napoli hai dato 2,66 2 2,66 le bottiglie di birra rilassate posso posso da eh 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 ci è a domani come sta a tu gli comaci però vedi tu dici a lui a domani come sta e poi ti lamenti perché devi mangiare quello che devi mangiare no 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 io devo mangiare come dico io eh quando di come quando e perché non ti metto di mezzo bella non mi fare il solletico alla mano non mi fare così bella che non ti preoccupare tu bella non mi fare il solletico alla mano capito bella è dalle maledizione non mi fare il solletico alla mano vedi che una pena una bravissima persona le ho dato il buongiorno a lei e ai bimbi mi ha risposto per due volte ma mi ha fatto molto piacere la bambolina ah ecco mia moglie quindi è tornata a risponderti avete fatto pace l'hai sbloccata esattamente sì vabbè sono contento che avete fatto pace capito ma con gentilezza non mi fare il solletico alla mano una gentilezza mi devi dare un paio di mascherina quando andiamo dalla mia cicciotta ho già appreggia ho fatto tutto il pacchettino che devo dare a lei non vuoi proprio che te lo dia io me la vuole vedere sbacicchialla e poi devo dare un super regalo che dico tu e lui non ci dovete stare quale è questo super regalo deve essere passato al vaglio della commissione d'inchiesta dei regali di natale mai lo devi sapere mai è stata istituita una commissione d'inchiesta sui regali di natale bisogna sapere quali sono i regali di natale no no nessun 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 no ma mi chiedelo che tu mezzo non c'è da stare un super regalo che devo fare io e non lo devi sapere che si parla roba di cash le devo dare io e tu non lo puoi sapere chi è il che devi dare il cash si il cash che è il cash si attendo che ci devo lasciare che ci devo lasciare mica 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 dalla paldana ma vieni dalla paldana e dalla tasca succhia amministratore della tasca mia capito presidente alzino direttore come si aventa ok però alla fine della giostra e non mi fare il solletico alla mano come te lo devo dire allora dicevo che ti fa freddo il bambu il bambu ti fa freddo il bambu ti sei reso conto ti sei reso conto che nell'ultimo video hai esagerato sono scuse sincere le tue rispetto a quello che io te le posso sempre dalle mie scuse però questa questa non mi sta bene ho capito ed è giusto che non ti sta bene lo so pure io che non ti sta bene che non hai fatto nessun tipo di no ma voglio la vacanza specca le vecchie ferie stanno inclusa ancora le vecchie ferie te le metto per iscritto e non butto per chi o nulla ok per due persone vai richiedimi scusa perchè mi è piaciuto troppo e ne buttava ti do le mie scuse no come l'hai fatto all'inizio come l'hai fatto all'inizio scusami se alle volte lo domantico con tutti gli ostacoli un pensiero a metà gli da domolo questo è il contenuto extra aspetta che mi devo che cosa dici c'è proprio una cosa della schede è come si è venuto con un basilio dimmi vuol dire che tu lo saprai non me lo vuoi dire e vabbè no io non lo so non ho parlato con Walter e allora quello che voglio dobbiamo andare insieme a Walter ma mi devo scegliare mi sta facendo troppo godere cosa chiami sto godendo se mi li metto a spruire io ma ho scegliare a morire che tuo cazzo si vuole dargli tanto accetto di te ti sei provato il vestito sto ancora là però se andiamo a gigare vedi che vado da chic e paga pic da chic no non paga proprio assodato va bene quindi accetto volentieri le tue scuse le accetto volentieri no no tu lo devi dire in Napoletano perché io ho la canzone di D'Alessio lei è quella in Napoletano me lo devi fare in Napoletano ehi yab yab bella furiculi furiculà a posto abbiamo dato? abbiamo dato? io ti ho dato ora devi dare tu a me il cash e che soldi devi dare ad Angela tu? tu non ti sei preoccupato non hai avuto problemi a te tu hai messo un cittadino ehi zom quella va bene un 5 con un 0 va bene ehi 1 5 con un 0 va bene come te Chris su canarini come te come tu sei niente e io no tu sei un decimo eh e non mi dispiace combattere e si è proprio quello 5 con un 0 ecco la canola come a mezzo lecchio come da piano e pure a te come da piano ma io fatica e che ha venguto solo che bravo non è un brand io ti posso fare in bocca e tu hai lo sa qui hai lo sa qui tu hai lo sa qui da mio amore un papà ma la facciamo a zio a dovete facciamo a zio vuoi dire filmare la regia filmare la regia anche io sono regista Francis Ford Coppola anche se tu sei più sullo stile di Quentin Tarantino è bello mi metto bene bene a filmare più poco che filmare nooo ci guardi io che desidero mi metto più della cosa che sta giustando l'oricolare vai è così forte crevitibile vabbè vi lascio di squisire sui temi tecnici della ripresa fotografica va bene accettate le scuse formali va bene cantate addirittura mamma è quasi tutto è quasi tutto ciao Lello ciao ciao mi ne dottognavi mi ne dottognavi mi ne dottognavi mi ne dottognavi non mi scappai